Il coraggio attraverso il coraggio, il dolore, luce e ombre dell'universo materno. Lei parla anche di ombre. Intanto cominciamo con il coraggio. Quando parla di coraggio, di cosa parla? Gugliela dice, prendiamolo noi. Lui dice, sei pazza? Questo bambino morirà. E lei dice questa frase, che secondo me è una frase straordinaria. Dice, io credo che questo bambino abbia il diritto di morire tra le braccia di una madre. Si carica questo dolore che nessuno vuole, se lo porta sulle spalle per 20 anni, fa fare tre trapianti di cuore a questo ragazzino, fa di tutto e mi dice alla fine che questo ragazzo poi muore a 20 anni tra le sue braccia, quindi lei mantiene la sua promessa e lei mi dice, però io lo rifarei mille e mille volte perché l'amore che mi ha dato questa maternità elettiva non me l'ha dato niente altro nella mia vita. Quindi per dire quanto poi la generosità e il coraggio producono degli effetti straordinari e certe volte scopriamo che il nostro cuore è più grande di quanto noi stessi immaginiamo. Lei parla anche di altre storie di dolore. Sì, c'è quella di Cecilia. Mirta Merlino, madre. Un paese nel quale il tasso di natura da meravigliata, ammirata, è una giovane e brava attrice che non è ancora diventata mamma. Intanto perché e cosa pensa di quello che sta dicendo l'autrice proprio per quanto riguarda le madri? Silvia? Beh, insomma, mi piacerebbe essere brava. Per sua scelta, perché è successo. Gennaro San Giuliano, Mirta Merlino ha scritto Madri. Insomma, una donna coraggiosa che mi ha insegnato che io... Il concetto di madre lo estendo. ...e si apre e si chiude, anche se è ognare gli altri, ma continuamente. Io conto a madre, fai anche meno fatica. Adesso si può essere... Sai, essere madre è una condizione...